Un italiano su quattro a rischio povertà o addirittura esclusione sociale. L'11% della popolazione ha rinunciato da tempo alle cure mediche perché non ha neanche i soldi per pagare. L'istituto di previdenza sociale ha stabilito che gli assegni previdenziali e assistenziali delle pensioni saranno proporzionati al valore dell'innovazione. L'istituto di previdenza sociale L'istituto di previdenza sociale C'è chi ha lasciato il sangue sull'asfalto, c'è chi ha la faccia buona e non è un santo, c'è chi ha la voglia di chi è nato stanco, tu dimmi di chi è, di chi è la colpa. C'è chi ha lasciato il sangue sull'asfalto, c'è chi ha la voglia di chi è nato stanco, tu dimmi di chi è, di chi è la colpa. C'è chi ha un lavoro e non è soldi, c'è chi ha i soldi ma non lavora mai, c'è chi ha lasciato moglie e sparso figli, leoni in gabbia e in giro troppi conigli. Fermo! Un piede nella forza dei robot Un piede sulle ossa di chi ha scritto Una storia che non sai Che non hai letto mai Un libro di una vita che non c'è Nomi sulle pagine del tempo Cancellate da chi ha già Inventate una realtà Un piede nella fossa dei robot Un piede sulle ossa di chi ha scritto Una storia che non sai Che non hai letto mai Un libro di una vita che non c'è Nomi sulle pagine del tempo Cancellate da chi ha già Inventate una realtà In uno schermo spento ormai Le voci che io sento